Puoi davvero liberarti del peso dei debiti che stanno trascinando a fondo la tua azienda? Ascolta fino in fondo questo video e scoprirai come io e i professionisti del mio network possiamo aiutarti. Il peso che senti ogni mattina sullo stomaco, lo stato d'ansia che vivi quando il telefono squilla e il nervosismo che caratterizza le tue giornate sono i primi segnali di crisi aziendali che il tuo istinto imprenditoriale ti manda per spingerti a fare qualcosa. Un imprenditore attento come te si rende conto che le cose in azienda non girano come dovrebbero, ma la frenesia delle giornate interminabili, la mancanza di strumenti di controllo e l'assenza di una guida professionale competente non gli permettono di mettere a fuoco l'origine del problema e di trovare soluzioni. Capisco benissimo le difficoltà che vivi giorno dopo giorno. Sono un imprenditore anch'io e una delle mie imprese, la di Domenico Associati, si occupa di aiutare gli imprenditori in difficoltà a rimetterla l'azienda in carreggiata per evitare lo spettro di una crisi irreversibile. Per spiegare cosa facciamo ho scritto Diventa Libero dei Debiti Aziendali, un manuale dove ho raccolto tutte le soluzioni pratiche che ti possono aiutare a liberarti dalla zavorra dei debiti e risvegliarti per sempre dall'incubo della crisi, anche se sei convinto di non avere più speranze. Leggendolo scoprirai come misurare lo stato di salute della tua azienda per evitare una vera e propria crisi finanziaria, come puoi evitare il fallimento del tuo piano di riduzione dei costi aziendali, perché e quando puoi evitare il fallimento grazie a un piano di ristrutturazione aziendale, le strategie di gestione delle crisi aziendali più efficaci e molto altro ancora. Per scoprire tutto il resto ti invito a cliccare sul bottone qui sotto, leggere la pagina di vendita del libro e approfittare di un'offerta speciale con 5 bonus gratuiti incluso nel prezzo del manuale. Cosa aspetti? Clicca il bottone qui sotto e approfitta dell'offerta speciale. Il libro cartaceo più 5 bonus possono essere tuoi investendo appena 27€. Non perderla!